Riformare non vuol dire imbiancare un po' le cose, ma dare loro un'altra forma, con intelligenza, mitezza, decisione e senza paura. Lo ha ribadito il Papa, accogliendo in Vaticano i membri della Segreteria per la Comunicazione in occasione della loro prima Assemblea Plenaria. Francesco ha ridefinito l'urgenza di studiare insieme criteri nuovi per comunicare il Vangelo della Misericordia a tutte le genti, in modo particolare attraverso i media digitali. Il Pontefice ha spiegato che la riforma dei media vaticani non consiste in una fusione tra i precedenti dicasteri, ma nella costruzione di una vera e propria istituzione con un nuovo sistema comunicativo, frutto della convergenza digitale e della multimedialità, che sappia rispondere sempre meglio alle esigenze di missione nella Chiesa. Entrando nello specifico, il Papa ha invitato l'osservatore romano, che dal prossimo anno entrerà a far parte della SPC, a trovare modalità diverse per poter raggiungere un numero più ampio di lettori. Stessa esortazione per la Radio Vaticana, che deve adeguarsi alle moderne tecnologie, pur continuando lo sforzo, nei paesi con poca disponibilità tecnologica come l'Africa, di razionalizzare le onde corte, che ha ribadito Francesco non sono mai state dismesse. Anche la libreria editrice vaticana e la tipografia sono chiamate ad armonizzarsi in questo nuovo disegno produttivo e distributivo, che presuppone, secondo Francesco, formazione e aggiornamento costante del personale. Un lavoro grande che si può e si deve fare con coraggio, senza cancellare la storia. Vi chiedo inoltre che il criterio guida sia quello apostolico, missionario, con una speciale attenzione alle situazioni di disagio, di povertà, di difficoltà nella consapevolezza che anche questi oggi vanno affrontati con soluzioni adeguate. Così diventa possibile portare il Vangelo a tutti, valorizzare le risorse umane, senza sostituirsi alla comunicazione delle Chiese locali e al tempo stesso sostenendo le comunità ecclesiali che più hanno bisogno. Non lasciamoci vincere dalla tentazione dell'attaccamento a un passato glorioso. Facciamo invece un grande gioco di squadra per meglio rispondere alle nuove sfide comunicative che la cultura oggi ci domanda, senza paure e senza immaginare scenari apocalittici.